Greetings world, we are anonymous. Movimento 5 Stelle, un partito politico italiano, ha espresso la propria posizione su questa crisi. Contrariamente ad altri partiti che vedono la situazione come una semplice lotta tra opposte fazioni, il Movimento 5 Stelle ha condannato il terrorismo di Hamas e ha sostenuto il diritto di Israele di difendere il proprio popolo. Tuttavia, il partito ha anche sottolineato l'importanza di rispettare il diritto umanitario internazionale e di non permettere che la strage di Hamas porti alla soppressione delle legittime aspirazioni del popolo palestinese. Secondo il Movimento 5 Stelle, l'Italia ha il dovere di richiamare la comunità internazionale a una prospettiva di pace giusta e credibile, seguendo il principio di due popoli, due stati, come stabilito dalle risoluzioni dell'ONU e dall'Accordo di Oslo. Il partito ha anche esortato a liberare gli ostaggi detenuti dai terroristi e a fornire assistenza umanitaria ai civili più vulnerabili. La situazione nel Medio Oriente è ancora estremamente grave, con migliaia di morti da entrambe le parti, tra cui molte vittime civili, compresi numerosi bambini. Il Movimento 5 Stelle rifiuta di considerare queste vittime come semplici effetti collaterali del conflitto e chiede una soluzione pacifica nel più breve tempo possibile. Il partito ha anche criticato il governo italiano per la sua gestione economica, sottolineando che non ha ancora affrontato i problemi di disoccupazione, povertà e perdita del potere d'acquisto che stanno colpendo le famiglie italiane. Invece di investire in armi, il Movimento 5 Stelle chiede un maggiore sostegno per i settori della sanità, dell'istruzione e della lotta ai cambiamenti climatici. Inoltre, il Movimento 5 Stelle ha sottolineato la necessità di una negoziazione pacifica per risolvere il conflitto in corso, criticando il governo per aver scelto di inviare armi anziché cercare una soluzione pacifica. Il partito ha anche rivolto critiche alla presidente Meloni e al suo partito Fratelli d'Italia per il loro fallimento nella gestione economica del paese e per aver aumentato le tasse sui prodotti per l'infanzia e sugli assorbenti. Infine, il Movimento 5 Stelle ha chiesto alla presidente Meloni di impegnarsi maggiormente nella lotta contro l'insicurezza e l'immigrazione, sottolineando che il suo governo ha visto un raddoppio del numero di sbarchi illegali senza aver fatto nulla per affrontare il problema. Il partito ha annunciato il suo voto contrario alla risoluzione di maggioranza e ha concluso affermando che è arrivato il momento di smettere di fare politica basata sulla propaganda e di iniziare a occuparsi dei reali problemi degli italiani.